Domenica 18 luglio 2021 ore 8 e 14, la mattina si intende. Sono giunto qui alle famose grotti archeologiche del comune di Luco dei Marzi. Ho notato una cosa. Guarda qua, qua c'è una morì di albighi. Qua c'è stato un incendio doloroso, va bene. Adesso vi conduco all'interno delle grotti. Ah, ecco qua. L'ultimo altro strumento di Salbringestano, comunque questo è il verde. Tutto giù, abbuttato. Andiamo a quella grotti. Adesso visitiamo con calma le grotti, bellissime. Guarda, bella, veramente bella. Ogni volta che vengo qua è sempre una nuova emozione, una nuova scoperta, nuove sensazioni. Ecco qua le grotti. Adesso.